Verso il ritorno della Fiera dell'Antiquariato, in centro, è arrivato infatti l'ok del Comune di Arezzo dopo la prima edizione della manifestazione dopo il lockdown al Prato, ma l'ultima parola adesso spetterà il Comitato di Sicurezza, formato da questore e prefetto, che dovranno valutare appunto la proposta dell'amministrazione. Dovrà essere così dimostrato che l'ubicazione storica della Fiera non comporta l'aumento di rischi per clienti ed espositori ed è possibile evitare assembramenti. Ho sempre pensato che lo spostamento della Fiera al Prato fosse una soluzione necessaria, efficiente ma temporanea. L'amministrazione ha intenzione di riportare i banchi nel centro storico che nella sede naturale fin dalla prossima edizione del 4 e 5 luglio. Questa decisione prosegue però richiede un lavoro propedeutico fondamentale e non dipenderà soltanto dal comune. Abbiamo due obiettivi ben chiari. Primo, investire in modo forte e mirato sulla promozione per stimolare l'arrivo dei turisti dopo il lungo periodo di isolamento. Secondo, consentire agli espositori di operare in sicurezza nel centro cittadino. È chiaro che non essendoci ancora lasciati alle spalle l'emergenza Covid dovremo pensare a un'area di istribuzione degli spazi, tutelando l'attività degli spuntisti ma anche la loro salute, oltre a quella dei visitatori. Decisivi saranno in tal senso i numeri dell'epidemia che si manifesteranno nelle prossime settimane e che orienteranno le nostre scelte, sempre tenendo fermi i paletti legati al distanziamento interpersonale. Per quanto riguarda l'amministrazione, conclude il sindaco Ghinelli, non trascureremo alcun dettaglio pur di riportare la fiera antiquaria nel nostro centro storico.